Musica La misericordia di Firenze compie 770 anni di storia. Per festeggiarli, l'Arci Confraternita ha organizzato una serie di eventi e iniziative per condividere con i fiorentini questo importante traguardo. Per celebrare 8 secoli di storia dedicata ai più bisognosi, oggi appuntamento nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Partiamo qui dal Palazzo Vecchio, dal cuore politico e amministrativo della città di Firenze. È un omaggio che la misericordia di Firenze vuole fare alla sua città perché Firenze e la misericordia sono cresciuti insieme dopo quasi 8 secoli di storia. Attualmente la misericordia conta su 15.000 associati, ma soprattutto sono i 1.500 volontari attivi che assicurano il servizio giornalmente. Questi gli appuntamenti da oggi fino agli inizi di giugno. La manifestazione di oggi è un convegno nel pomeriggio. C'è una mostra che apre sabato prossimo alla Galleria delle Carrozze. Chi visita la mostra può partecipare a delle visite guidate alla nostra sede, al nostro museo, al restaurato a fresco della Madonna della Misericordia al Bigallo. E poi continueremo con l'incontro di tutte le misericordie d'Italia sabato 31 all'Odeon e la messa in cattedrale di sua eminenza Bettori domenica primo giugno.